Ciao bimbi, siete pronte a giocare? Ecco un nuovo gioco, il sacchetto magico. Cosa ci serve? Un sacchetto e dei fogli con sopra gli animali colorati. Prendiamo i nostri animali, li pieghiamo e li mettiamo dentro al sacchetto. Come possiamo giocare? Prendiamo il nostro sacchetto, mescoliamo e tiriamo fuori un animale in cui ci trasformeremo. Proviamo insieme. Pronti? Via! Mescoliamo e pesco un animale. Un canguro, trasformiamoci. Un po' in avanti, vado un po' in dietro. Ok, peschiamo un altro animale. Ho pescato un gatto, trasformiamoci. Vado un po' in avanti, un po' all'indietro. Benissimo, crescono un altro animale. Chi sa cosa uscirà? Un po' in avanti, trasformiamoci. In avanti, in avanti e in indietro. Benissimo, ora tocca a voi. Ciao! Ciao! Ciao!